Nuovamente in diretta con l'informazione di Antenna Sud, dalla stampa a primo piano, il fronte dei diritti, l'appello di Meloni cade nel vuoto, oggi il distacco delle macchine a Indy. I genitori della bambina inglese malata terminale non si arrendono, tutto il mondo vede come siamo trattati. E dal caso Indy invece passiamo a quello che è lo screening neonatale che diventa sempre più esteso in Puglia e sono 61 le malattie rare inserite nel pannello diagnostico obbligatorio, come ci dice in questa intervista, in questo approfondimento, il consigliere regionale Fabiana Mati. Lo screening neonatale diventa sempre più superesteso, sono 61 le malattie rare inserite nel pannello diagnostico obbligatorio per ogni neonato pugliese, così da consentire le cure più tempestive, una corsa dove avvincere la vita. Fabiana Mati è il promotore della legge che ha reso obbligatorio in Puglia lo screening per le diagnosi di malattie rare. La speranza è che anche altre regioni italiane raggiungano questo livello nelle diagnosi precoce. I 20.000 nati in Puglia ogni anno potranno essere sottoposti a screening per ben 61 patologie genetiche rare ed ultra rare. La ricerca di 60 delle patologie oggetto di screening sarà poi affidata al centro regionale screening neonatale dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico Giovanni XXIII all'interno dell'ospedale pediatrico di Bari. In ogni punto nascita pubblico privato convenzionato è obbligatorio lo screening visivo neonatale proprio per diagnosticare gravi malattie neonatali ad alto impatto sociale. I primi risultati arrivano dalla diagnosi precoce SMA. Lei è stato promotore della legge per quanto riguarda lo screening obbligatorio per le malattie rare. Ci sono già primi risultati, sei bambini in Puglia e i risultati già si stanno vedendo. Se sono notevoli, commoventi per certi versi, cioè quando ci sono sei bambini alcuni di quali nelle forme più gravi sarebbero o morti oppure avrebbero avuto un epilogo molto tragico della loro storia di malattia, invece li vedi camminare cosa devi aggiungere di più? Non puoi aggiungere nulla. Io ogni volta che ci penso mi commuovo, mi determino a fare meglio e di più. Mi spiace che noi siamo i primi in Italia, la Puglia, e che però ci sono dei bambini che nascono in altre regioni che non hanno le stesse fortune. Questo mi dispiace molto, ecco perché continuo sempre a dire, chiedo ai mezzi di informazione, dite, dite, dite e chiedete al governo nazionale di fare una norma che valga per tutto il paese, perché non è che se nasci in Puglia sei fortunato, se nasci in un'altra regione no. Così come non è giusto al contrario, non è giusto nemmeno quando noi siamo la regione virtuosa. Però è una cosa straordinaria, tant'è che io dico dovesse finire qui la mia esperienza politica, io penso di aver già contribuito a fare una cosa grandissima. Perché la prevenzione è importante, tant'è che poi lo screening obbligatorio, le terapie che stanno già dando dei risultati. Perché tutto lì, screening significa diagnosi precoce, significa poter somministrare i farmaci, le terapie in un periodo in cui la malattia è asintomatica e quindi cambiare, mutare la storia naturale della malattia. E tutto lì, arrivare presto, ecco perché è importante lo screening obbligatorio sulla malattia della smala, su tutte le malattie, è importante la prevenzione. E dallo screening precoce e prenatale, ovviamente quello che si sta verificando in Puglia, con questa legge, la prima in tutte le regioni, si spera che sia anche a livello nazionale recepita. Passiamo invece ad un'altra situazione, quella delle carceri. E secondo una fotografia, dal 30 aprile di quest'anno, i detenuti presenti nel carcere, nel nostro paese, erano circa 56 mila. Dunque 9 mila detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare, con un tasso di sovraffollamento pari in media al 119%. Ovviamente è un problema questo del sovraffollamento che cambia da regione a regione. In Puglia, ad esempio, sempre ad aprile, diciamo, alcuni mesi fa, il tasso era del 146% in più. Oltre il 73% dei detenuti italiani è in prigione per scontare una condanna definitiva. E circa il 14% è in attesa di un giudizio. Ed è stato pubblicato a tal proposito un libro bianco sulle carceri, redatto a cura dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, mediante l'Osservatorio Nazionale sulle Carceri. Il volume contiene un'analisi pressoché fedele dei sopralluoghi che sono stati fatti dai giovani avvocati nel corso del bienio. In pratica sono state visitate 140 sezioni dell'Aiga e raccoglie anche delle proposte di modifica. E diamo il benvenuto al direttore generale presso la Fondazione Aiga, Tommaso Bucciarelli, l'avvocato Domenico Attanasi. Ecco, un libro bianco che è stato presentato appena qualche giorno fa. Sì, direttore, buongiorno. È stato presentato il libro bianco dell'ONAC, l'organismo nazionale di osservazione delle carceri dell'Aiga, all'esito di un lavoro che è durato diversi mesi. Abbiamo effettuato tanti sopralluoghi nelle carceri italiane e io personalmente sono stato a Melfi, rilevando una situazione davvero molto, molto difficile. Una grande esperienza anche per noi avvocati, che siamo abituati per ragioni professionali a visitare le carceri, ma mai potendoci addentrare, come è stato invece possibile in questa occasione, negli spazi che vengono realmente vissuti dai detenuti. E questa intanto è la copertina del libro bianco sulle carceri dell'Aiga. È stato presentato il 4 novembre presso il carcere di Genova, perché lì è stato stampato. Questa è già un'altra novità. Una stamperia, sì, con la collaborazione dei detenuti che vogliono lavorare, e questo è un dato che abbiamo rilevato pressoché ovunque, c'è una richiesta di lavoro, di reinserimento sociale, di preparazione al reinserimento sociale, che arriva in maniera pressoché unanime da tutti i detenuti, lì c'è questa esperienza, questa possibilità virtuosa di effettuare questo tipo di attività. E quindi abbiamo pensato che fosse un messaggio particolarmente significativo quello di consegnare all'opinione pubblica un lavoro redatto dall'ONAC, ma stampato dai detenuti. Con la benedizione... Ecco, c'è anche una dedica, la interrompo, c'è anche una dedica speciale da parte di Sua Santità Papa Francesco, dovremmo avere anche delle fotografie, perché non è casuale questa dedica. Perché? Perché i giovani avvocati sono stati ricevuti dal Papa a margine dell'udienza. Ecco, qui vediamo la foto del gruppo dell'udienza generale del 6 settembre scorso. Ecco, quelle emozioni di settembre scorso il Papa ovviamente questa dedica speciale anche al libro. E qui la consegna del libro. Vedere le immagini mi emoziona ancora molto, è stata un'esperienza bellissima. Abbiamo voluto dedicare questo lavoro a Papa Francesco perché si è sempre dimostrato particolarmente sensibile sul tema delle carceri, come anche il Presidente Mattarella, perché come diceva Voltaire, che era un grande illuminista, il livello di civiltà di un Paese si misura dalle condizioni delle carceri, non certamente dalla bellezza dei palazzi, e quindi abbiamo stabilito questa connessione, diciamo, intellettuale ed emotiva con il Santo Padre che ci ha ricevuti e al quale abbiamo ritenuto doveroso dedicare questo importante volume. Ecco, diceva il Presidente Perchinunno che il primo libro, Bianco sulle carcere, è la sintesi di questo impegno appunto del Laica, così come diceva anche l'Avvocato Domenico Tanasi, ma anche è un punto di partenza, perché poi bisogna dare corso a quelle che sono state le proposte formulate nel libro. Sì, intanto lo scopo è quello di sensibilizzare ulteriormente l'opinione pubblica e la politica nei confronti di questo tema che troppo spesso viene trascurato, e anzi ne approfitto per ringraziare Antenna Sud per aver voluto accendere un riflettore, di solito la TV generalista non se ne occupa e invece voi avete ritenuto di farlo e per questo vi ringrazio. Quindi sensibilizzare l'opinione pubblica, mappare la situazione delle carceri italiane, noi abbiamo redatto questo lavoro anche con l'ausilio di un architetto esperto in edilizia carceraria, il tema dell'edilizia carceraria è centrale, perché la condizione dei detenuti passa appunto dalla condizione delle carceri, e quindi lanciare delle proposte, lo Stato deve intervenire, magari guardi stamattina riepilogando un poco i dati, facendo sintesi, ho rilevato che lo Stato ogni anno paga 27 milioni di euro di indennizi per riparazione per ingiusta detenzione, cioè risarcisce chi è stato incarcerato ingiustamente, quindi magari più attenzione nell'applicazione delle misure cautelari da parte dei giudici, risparmio di spesa per lo Stato e investimento nelle condizioni delle carceri, oltre al fronte della parte più tecnico-giuridica del rafforzamento e la valorizzazione delle misure alternative alla detenzione. Ecco, sono state visitate quasi 100 istituti di pena e sono state anche indicate delle priorità. Lasciamo per un attimo l'ordinamento penitenziario, però diceva Perchinunno che al di là di quel muro ci sono anche gli operatori penitenziari che continuano a svolgere il proprio lavoro nonostante le gravose carenze strutturali, ma anche di organico. C'è un dramma nel dramma che è quello che vivono gli agenti di polizia penitenziaria che paradossalmente sono sulla stessa barca dei detenuti e noi li abbiamo ascoltati. Nel 2022 io e Francesco Perchinunno abbiamo redatto un articolo che è stato pubblicato su Il Dubbio, una rivista specializzata, che muoveva da una protesta fatta proprio dagli agenti di polizia penitenziaria del carcere di Foggia che erano sottodimensionati, erano 170 a fronte di 250 unità che dovevano essere previste in pianta organica, avevano bruciato i loro testerini di appartenenza ovviamente in forma di protesta alla polizia penitenziaria e lamentavano anche loro condizioni disumane, con turni massacranti. Quindi anche lì bisogna intervenire perché bisogna tutelare anche il diritto degli agenti di polizia penitenziaria a svolgere l'attività in condizioni di sicurezza e in condizioni decorose. Ecco, breve pausa pubblicitaria, ritorneremo a parlare dell'argomento carceri ma soprattutto anche di questo libro, il libro bianco sulle carceri, presentato e redatto all'interno di un carcere. Nuovamente in diretta parliamo del libro bianco sulle carceri con il direttore appunto della Fondazione Aiga Tommaso Bucciarelli, l'avvocato Domenico Attanasi. Stavamo parlando appunto della condizione come vivono appunto gli operatori di polizia penitenziaria all'interno delle strutture carcerarie ma anche gli stessi detenuti. Ma il sovraffollamento come si fa a eliminarlo? Le linee e le direttrici sono due. Intanto investendo nella costruzione di nuovi istituti penitenziari laddove sia necessario che ovviamente garantiscono le condizioni minime di civiltà che devono essere garantite lo dice la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che più volte ha condannato lo Stato italiano a risarcire i detenuti che vivevano in condizioni disumane definite espressamente disumane questo è un versante e l'altro facevo cenno prima alla necessità a questo punto sempre più impellente di rafforzare il sistema delle misure alternative alla detenzione. Non è detto che una pena debba essere scontata anzi non è affatto detto che una pena debba essere scontata in regime inframurario ma esistono altri strumenti come l'affidamento in prova al servizio sociale che possono altrettanto efficacemente ai fini della rieducazione e del reinserimento sociale del condannato perché questa è la funzione che la Costituzione affida alla pena possono essere rafforzate, implementate e applicate sempre di più. Un passo in questo senso è stato fatto dalla riforma Cartabbia che ha previsto la possibilità che il giudice già in sentenza preveda l'applicazione di una pena sostitutiva delle pene detentive brevi fino a 4 anni con altre misure. Però è chiaro che questo non ha risolto e non risolve nell'immediato un problema perché abbiamo un tasso di sovraffollamento come abbiamo detto nel 119% in Puglia del 154% mi pare quindi c'è una situazione abbastanza critica. peraltro, dicevo, io sono stato a Melfi in carcere di massima sicurezza dove si lamentano situazioni che possono sembrare spicciole pratiche invece sono essenziali rispetto ai servizi igienici sono situazioni paradossali perché le norme prevedono per esempio che i servizi igienici debbano stare fuori dalle celle e le docce all'interno invece è previsto esattamente il contrario cioè la situazione è opposta quindi con situazioni di degrado di vera e propria emergenza e anche di sicurezza perché ci spiegavano per esempio gli agenti di polizia providenziale che le docce sono il luogo in cui si verificano le situazioni di particolare criticità quindi c'è tutto un mondo da rivedere per portare il pianeta carcere sui livelli di civiltà che uno Stato è voluto deve poter garantire a tutti i suoi cittadini anche a quelli che hanno sbagliato Lei ha parlato di misure alternative diciamo alla direzione ma si può anche prevedere perché se ne parla da anni di un'accelerata per quanto riguarda l'iter dei processi perché il 14% abbiamo visto è in attesa di un giudizio e molte volte questo giudizio tarda ad arrivare Molte volte tarda ad arrivare molte volte c'è un abuso della cosiddetta carcerazione preventiva devo dire che negli ultimissimi tempi forse i magistrati hanno cominciato a rivedere o a ripensare la custodia cautelare in carcere veramente come l'estrema razio nell'applicazione delle misure cautelari però è chiaro che c'è anche una componente culturale la misura cautelare non deve essere un'anticipazione della pena ma deve essere applicata solamente quando ci sono effettivamente delle esigenze cautelari da presidiare su questo versante l'opera è anche culturale e di formazione dei magistrati ecco come avvocato la riforma della giustizia la riforma della giustizia è un tema complesso voglio dire è un tema complesso che lo possiamo ridurre in qualche minuto però è un tema complesso c'è stato uno sforzo dicevo con la riforma cartabbia di rivedere alcuni aspetti che potessero portare ma questo perché ce lo chiedeva l'Europa per usare una formula abusata ai fini dell'ottenimento dei fondi del PNRR quindi diciamo è stato anche un passaggio per certi versi obbligato c'è uno sforzo che va nella direzione di razionalizzare la macchina giudiziaria una serie di correttivi che sono stati applicati dalla riforma anche una serie di distorsioni devo dire ma non è questa la sede per approfondirlo però c'è tutto un mondo da rivedere proprio perché non si arrivi poi nella parte terminale perché l'esecuzione della pena è l'ultimo stadio di un procedimento che sfocia in un processo proprio per fare in modo che quell'ultimo stadio non si trasformi in quella che molti hanno definito una vera e propria discarica sociale non può essere questo e non deve essere assolutamente questo bisogna riportare la pena alla funzione propria che le viene assegnata dalla nostra carta costituzionale cioè non bisogna mai più sentire frasi del tipo buttare la chiave o marcire in galera queste sono cose che purtroppo nel dibattito politico ancora oggi si sentono e non sono espressioni non sono visioni accettabili nel 2023 opinioni accettabili nel 2023 e lì torno al libro bianco perché alla fine vuol dire contiene le proposte di modifico l'abbiamo anche accennato sia per quanto riguarda l'ordinamento penitenziario ma anche degli stessi istituti carcerali proposte che sono state formulate dall'Aiga e sono state diciamo presentate e portate avanti sotto i riflettori di numerosi esperti della materia penitenziaria sì in pillole davvero per non entrare nei tecnicismi voi avete fatto un focus diciamo noi abbiamo fatto una fotografia della situazione carceraria e anche il quadro normativo di riferimento perché è tutto collegato anche un'analisi delle sanzioni che ha subito lo Stato italiano per non aver rispettato i parametri previsti dalla Convenzione Europea per i diritti dell'uomo e poi una serie di proposte che ripeto vanno dall'edilizia carceraria agli interventi correttivi sull'ordinamento penitenziario c'è una carenza anche di personale dal punto di vista degli educatori degli psicologi c'è un'emergenza anche sotto il profilo della salute mentale che non viene assolutamente gestita per non parlare della tossicodipendenza una percentuale altissima dei detenuti soffre di problemi di tossicodipendenza e le nostre carceri per quanto vi sia collaborazione con i SERT non sono assolutamente attrezzati ad affrontare quel tipo di problemi ecco torniamo se la regia può inquadrare in foto quelle immagini eloquenti dell'udienza generale del 6 settembre scorso quando siete stati appunto a margine dell'udienza il Papa vi ha ricevuto presentato questo libro con questa dedica speciale del Santo Padre che dice la verità è una compagna inseparabile della giustizia e della misericordia tutte e tre unite sono essenziali per costruire la pace e dall'altra parte ciascuna di esse impedisce che le altre siano alterate la verità non deve di fatto condurre alla vendetta ma piuttosto alla riconciliazione e al perdono è un po' quello che diceva lei avvocato cioè la vendetta vuole dire fine pena mai vuole dire la vendetta sociale non ha senso di esistere nemmeno quando si parla di delitti particolarmente efferati bisogna essere lucidi e non lasciare spazio a sentimenti che possono essere istintivi appartenere all'uomo però poi vanno ricondotti in una logica di carattere collettivo e ripeto di rieducazione di reinserimento sociale del detenuto da questo punto di vista noi avvocati per formazione e per cultura siamo perfettamente allineati con i sentimenti del Santo Padre il perdono non è una categoria se non nel processo penale minorile che prevede il perdono giudiziale non è una categoria che appartiene al nostro ordinamento al nostro formamento le categorie sono altre però ripeto c'è grande sintonia come c'è con il Presidente Mattarella che più volte è intervenuto soprattutto nei discorsi di fine anno per accendere un riflettore sul tema delle carceri le visioni sono assolutamente comuni ora il passaggio ulteriore è quello di fare in modo che queste visioni comuni siano comuni anche al Governo nazionale e al Parlamento perché poi sono questi due organismi che devono tradurre in azioni concrete queste visioni e questi principi ecco abbiamo detto più volte questa sigla AIGA per i telespettatori che si sono sintetizzati in questo momento AIGA associazione italiana giovani avvocati il compito dell'AIGA qual è? quello di formare giovani avvocati intanto sono contento che tu mi faccia questa domanda alla vigilia della mia fuoriuscita dall'AIGA perché c'è un limite anagrafico che è di 45 anni che io raggiungerò raggiungerò il 6 dicembre per cui si concluderà un percorso fascinante stimolante che è iniziato nel 2009 l'associazione italiana giovani avvocati è stato un lungo percorso è stato un lungo percorso si è portato anche a viaggiare a spaziare a conoscere altre realtà professionali a conoscere tanti colleghi ad arricchirmi delle esperienze altrui di culture anche di modo di intendere le relazioni e la professione differenti che mi ha questo l'invito anche in maggior appello ai giovani avvocati ad avvicinarsi assolutamente c'è una sezione di brindisi che è presieduta dall'avvocato Cataldo Loll in questo momento che è molto attiva molto vivace lo scopo dell'AIGA è quello di promuovere i valori e la cultura degli avvocati di avvicinarli e di incentivarli all'esercizio della professione adesso dopo anni di inflazione della categoria degli avvocati della professione c'è un qualche passo indietro perché molti si stanno allontanando dalla professione anche per la congiuntura economica non particolarmente favorevole che tutti noi viviamo invece l'AIGA promuove e avvicina gli avvocati i praticanti all'esercizio di questa bellissima professione e poi si occupa come stiamo vedendo anche di temi più alti che hanno una rilevanza non solamente strettamente professionale ma anche una rilevanza sociale ecco ringraziamo per questo contributo l'avvocato Domenico Atanasi ci ha illustrato i particolari del libro Bianco sulle carceri abbiamo parlato anche di quello che è l'ordinamento penitenziario e della necessità delle proposte formulate dall'AIGA che ha visitato oltre 100 carceri in Italia e diceva Domenico Atanasi per la Puglia Melfi se non sbaglio Melfi per la Basilicata in Puglia abbiamo visitato Foggia carcere di Lecce e se non sbaglio anche Brindisi ecco da qui le proposte che saranno appunto esaminate dagli esperti in materia penitenziaria proseguiamo il nostro OTG e ci spostiamo a Stat nel Tarantino parlando di parità di genere eliminare le discriminazioni di genere anche attraverso le parole che scegliamo di utilizzare le donne come gli uomini o meglio un progetto dei comuni di Stat e Crispiane e Grottaglie finanziato dalla Regione Puglia il servizio di Valentina Fanigliu è il progetto Domna non un errore quella consonante iniziale della parola maschio ma la volontà di eliminare le differenze di genere giocando ma non troppo con il sostantivo i tre comuni del Tarantino State Crispiane e Grottaglie insieme sono beneficiari di un finanziamento regionale contro le differenze di genere vogliamo sensibilizzare allargare la platea in modo tale che passi questo messaggio che non vi deve essere una disparità di genere soprattutto con il centro antiviolenza rompiamo in silenzio abbiamo già iniziato l'anno scorso un percorso rivolto ai ragazzi delle scuole medie piuttosto che delle scuole superiori comuni non città che sposano la lingua che non ammette differenze e al contempo valorizza il genere il sindaco la sindaca il funzionario la funzionaria siamo particolarmente contenti perché questo risultato innanzitutto è frutto di una rete si professa generalmente sempre in ogni ambito che la rete è importante in questo caso la rete non solo è stata importante ma fondamentale e sicuramente effettiva dalla presentazione del progetto nella biblioteca comunale a State ora partono i 13 mesi di lavoro concreto non esclusivamente simbolico è un progetto che mira ad andare alla base e a strutturare delle azioni di sistema che possano supportare linguaggi procedure e documenti anche atti amministrativi che vadano nel pieno rispetto del genere e delle necessità di ognuno e di ognuna l'assessora al welfare regionale Rosa Barone ha inviato un videomessaggio per me motivo di orgoglio quando in questo caso le assessore riescono a lavorare così tanto bene per un riconoscimento così importante nella valorizzazione delle donne e parliamo del piano di accorpamento delle scuole superiori in provincia di Brindisi un piano che non piace agli studenti e alle studentesse delle scia scientifico Ribezzo di Francavilla in protesta per rivendicare la loro indipendenza vogliamo il sindaco vogliamo il sindaco vogliamo il sindaco al sindaco Antonello Denuzio e al presidente della provincia Tony Matarrelli chiedono un confronto perché di essere accorpati al liceo classico Vincenzo Lilla nell'ottica della creazione di un polo liceale non ne hanno alcuna intenzione se fosse guerra quella degli studenti e delle studentesse del liceo scientifico Ribezzo sarebbe di indipendenza la rivendicano con forza dal cortile della scuola dove venerdì mattina è andata in scena la protesta noi pensiamo che questo accorpamento comporterebbe una diminuzione dell'efficienza e anche dell'unità che ha sempre contadito intorno alla nostra scuola noi vogliamo protestare perché chiediamo un incontro col sindaco e anche con il presidente della provincia per capire quali sono state le motivazioni che hanno spinto loro a muovere questa proposta e assolutamente chiediamo l'indipendenza come scuola perché possiamo diciamo mantenerla e soprattutto non vogliamo che una scuola che appunto lavori bene come noi sia danneggiata con una monoma del genere volete restare indipendenti? sì vogliamo restare indipendenti anche perché va soltanto a favore nostro le altre scuole sono quelle che andrebbero avvantaggiate il piano di accorpamento immaginato da comune e provincia riguarda anche altre scuole e altre situazioni altre proteste non è il 1968 eppure le esigenze dei ragazzi che chiedono di non guardare solo i tre di numeri meritano di essere ascoltate no non è una guerra ma la lotta per l'indipendenza può avere tante fogli vogliamo restare indipendenti vogliamo restare indipendenti vogliamo restare indipendenti e dalla protesta degli studenti a Bari la prima conferenza internazionale che interessa l'innovazione digitale nelle industrie creative creatività e innovazione sono le parole d'ordine della Puglia Digital Experience 2023 la prima conferenza internazionale made in Italy dedicata all'innovazione digitale nelle industrie creative in programma Bari questo fine settimana tre giorni immersivi di incontri sul ruolo dell'intelligenza artificiale nel mondo dei media dell'arte e della creatività sull'evoluzione dello storytelling nel metaverso e sulle prospettive di sperimentazione e crescita per l'impresa italiana internazionale senza dimenticare i contenuti immersivi e le prospettive che il digitale riserva al mondo dell'arte e di tutto l'audiovisivo a fare da padroni di casa la Puglia Film Commission che ha organizzato la tre giorni con RICOM il tema dell'intelligenza artificiale applicata al cinema infatti è uno degli argomenti che sta tenendo banco nelle ultime settimane anche alla luce del da poco concluso sciopero di attori e sceneggiatori che ha letteralmente paralizzato l'industria del cinema hollywoodiano è un tema diciamo declinabile sia positivamente che negativamente il tema è molto più ampio dell'audiovisivo ovviamente riguarda diciamo anche aspetti etici della produzione di contenuti parliamo qui dell'intelligenza artificiale è una grande occasione non potremmo perdere in Puglia l'audiovisivo è stato un pezzo tra virgolette della storia dello sviluppo recente della nostra regione l'audiovisivo oggi è diciamo una parte importante dell'audiovisivo è costituita da tutto il mondo dell'animazione del metaverso del game e affoggia un ricordo speciale in ricordo appunto di Panunzio e come i colpi di pistola in questa città non sono mai mancati ecco perché vi dedico questa canzone continua il racconto della figura dell'imprenditore Giovanni Panunzio in occasione del 31esimo anniversario del suo omicidio avvenuto per mano della mafia foggiana nelle scorse ore l'associazione Giovanni Panunzio e Eguaglianza Legalità Diritti ha incontrato gli studenti dell'istituto scolastico Giannone Masi di Foggia alla presenza di Don Antonio Coluccia il prete di origini salentine fondatore dell'opera Don Giustino di Roma impegnato nella lotta alla criminalità e illegalità di Nicola Morra già presidente della commissione parlamentare antimafia del giovanissimo scrittore e analista della mafia foggiana Antonio Colasanto e della neosindaca del capologo Dauno Maria Idepiscopo alla quale abbiamo chiesto come è possibile oggi riuscire ad avvicinare i giovani all'esempio di Giovanni Panunzio Si fa parlando dalla biografia realisticamente vissuta da quest'uomo raccontata narrata dalla famiglia dalle evidenze pubbliche degli atti gli atti di inchiesta degli atti anche processuali degli atti che avete reso anche voi come servizio di inchiesta della nostra stampa quindi una verità fattuale di cui ci sono ancora degli interrogativi perché non c'è ancora l'individuazione chiara della mano che ha colpito Oggi qui c'è un testimone e il testimone è un cittadino di Foggia che ha pagato con la propria vita che ha rinunciato a pagare il pizzo e quindi con la schiena dritta e questa è la testimonianza che deve edificare tanti foggiani a reagire ad ogni forma di sopruso non vediamo le istituzioni che stanno cercando di cooperare chiaramente di lavorare ma non bastano le istituzioni provinciali ci vuole il governo e il governo Caivano va bene ma se Foggia non ha di meno di Caivano anzi se riflettiamo un po' di più forse c'è anche più bisogno e la Puglia è stata una delle destinazioni più richieste dai turisti italiani e stranieri nel 2023 una Puglia che piace allo scrittore giornalista attore italiano autore regista di programmi per la radio e la televisione piace a Bruno Gambarotta in questo approfondimento la Puglia è stata una delle destinazioni più richieste dai turisti italiani e stranieri nel 2023 la Puglia attrae sempre di più una terra di cultura e natura che offre un patrimonio culturale e naturale di grande valore piace a tanti visitatori e turisti piace a Bruno Gambarotta scrittore giornalista attore italiano autore regista di programmi per la radio e la tv Gambarotta è legato alla Puglia come testimoniato in questa intervista raccolta da Antenna Sud io sono molto legato alla Puglia per molte ragioni sono stato la spalla di Celentano che è pugliese di origine vengo qui tutte le volte che posso ho un editore pugliese Manni di Lecce sono stato sono uscito da Garzanti per adattare per abbinarmi a un editore pugliese che è straordinariamente bravo quindi in realtà vengo appena appena posso da ospite del mio editore quindi sì ho un bel rapporto come ha trovato la Puglia in tutti questi anni perché a livello turistico è cresciuta molto tra l'altro è diventata anche sette di pellicole cinematografiche sì è vero è vero perché è una regione unica da questo punto di vista oggi l'abbiamo girata un bel po' ci sono dei panorami incantevoli siamo stati ostuni tutta la tutta la mattina e abbiamo visto che c'è affollatissima di turisti è molto è molto è molto apprezzata sì secondo me sta sta prendendo un rilievo molto forte anche un'identità un profilo adesso settimana scorsa quando mi hanno cercato dei amici o persone che mi chiedevano di per essere presenti in questi giorni io dicevo mi dispiace ma devo andare qualche giorno in Puglia beato te che fortuna vorrei essere anch'io al tuo posto non è sempre così quando dico che vado in certi posti mi dicono non ti invidio mi dicono lì no è solare la Puglia quello che conta è la narrazione in questo momento la Puglia è raccontata molto bene quando scatta nella mente delle persone un'immagine per esempio adesso non è per colpa di nessuno in questo momento sta l'immagine di Venezia uno pensa a Venezia oh misera con tutto il posto turismo è soffocata dal turismo stravolta rovinata in questo caso no questa è una regione di grandi spazi è ariosissima è meravigliosa certo la carta vincente è quella di poter offrire ai viaggiatori e ai turisti un'entroterra molto ricco dal punto di vista artistico culturale ed enno gastronomico il successo della Puglia è innanzitutto legato alle meraviglie del territorio che vanno dalle spiagge ad una ricca storia e cultura anche a livello enno gastronomico ed ora siamo collegati con Nico Pillinini per la vignetta della settimana la vignetta del sabato una narrazione di questa vignetta e se la regia la può inquadrare la chiamiamo operazione chirurgica ma ecco la vignetta ma a tutti gli effetti poi bombardiamo gli ospedali una narrazione di quello che sta avvenendo nei conflitti intanto buongiorno Nico buongiorno benvenuto ben ritrovato anche voi allora dicevamo di questa vignetta che riassume un po' ovviamente in maniera ironica come sai fare però riassume un po' quello che è la tragedia cioè da una parte diciamo la chiamiamo operazione chirurgica dall'altra parte poi bombardiamo di fatto gli ospedali le strutture ospedaliere è un controsenso esatto hanno circondato quattro c'ho una voce di ritorno mi sentite bene voi? non la sentiamo bene hanno circondato quattro ospedali addirittura i cecchini che entravano e sparavano le persone che si trovavano all'interno degli ospedali hanno provocato più di 50 vittime la croce rossa asserisce poi tra l'altro che il sistema sanitario sta veramente al collasso è un punto di non ritorno sovraccarico mettendo a rischio la vita proprio di migliaia di feriti e malati che sono consentiti a sfollare ecco nico più a ovest hanno boccia il segreto il Blinken sta dicendo il segretario di Stato americano che Israele sta esagerando sta provocando troppi morti palestinesi troppi è vero che l'azione che è stata condotta da Hamas è quella che è ma loro stanno veramente esagerando perché stanno provocando molti molti più morti rispetto a anche un solo morto diciamo è una cosa terribile un morto tutte queste persone che vengono uccise vengono ammazzate per ragioni così territoriali è veramente terribile il io ricordo che poi tra l'altro non c'è nessuna intesa per l'eventuale liberazione degli ostaggi non si riesce ad arrivare a un'intesa le bombe che continuano a piovere mettendo facendo scappare mettere in fuga verso sud di Gaza migliaia e migliaia di persone però la cosa che io vorrei assolutamente ricordare vi ricordate Rabin il premio Nobel per la pace il leader israeliano che a Oslo nel 1993 disse queste belle parole noi che abbiamo combattuto contro di voi palestinesi oggi vi diciamo con voce forte e chiara basta sangue e lacrime diamo una possibilità alla pace lo disse lo rinnovò nel 1994 rinnovò le stesse identiche parole nel 95 venne assassinato a Tel Aviv da un fanatico ultra ortodosso di destra contro la pace faceva parte di un movimento contro la pace quindi un uomo come Rabin che è stato ucciso da un suo da un israeliano stesso perché non condivideva le idee per la pace cioè secondo questo movimento Israele dovrebbe essere in guerra in maniera totale ecco quando dici basta sangue e lacrime io immagino che nel momento in cui stavi disegnando questa vignetta il dolore che si prova al di là voglio dire di quello che sono voglio dire parlavi dei morti perché anche un solo morto voglio dire è un dramma però ecco quando si vedono le macerie stavi disegnando le macerie di un ospedale uno che cosa va in ospedale uno va in ospedale per curarsi e quindi quando poi distruggiamo ciò che comunque noi chiamiamo poi operazione chirurgica chiamiamo interventi chiamiamo a livello anche umanitario e sanitario poi vediamo da una parte che si bombardano e quindi si distruggono proprio le strutture ospedaliere e questo immagino il dramma e il dolore che hai in quel momento nel disegnare vuol dire questa vignetta nel disegnarla spero anche di essere riuscito a trasmettere a chi la vede a chi vede questa vignetta il dolore che stanno provando queste persone cioè veramente bombardare gli ospedali con la scusa che all'interno si possano trovare elementi di Hamas è veramente una cosa terribile cioè questi che sono ritenuti gli israeliani hanno come dire sono loro hanno un'intelligence che supera altamente quella degli Stati Uniti quindi non si capisce come mai queste persone debbano radere al suolo interi interi un'intera un'intera Gaza per riuscire a scovare queste persone io cioè hanno fallito su tutti i punti su tutti i fronti questi signori ed è veramente terribile questa cosa cioè ora sono in questo momento sono loro che stanno commettendo atti scelerati quindi è su di loro che dobbiamo puntare adesso la nostra attenzione per fare in modo che smettano dice che ora concederanno quattro ore al giorno di fermate il fuoco per fuoco per quattro ore ecco io con questo fermate il fuoco fermate il fuoco basta sangue e lacrime perché anche un solo morto è un dramma io chiudo diciamo il collegamento con Tenico questa vignetta è molto eloquente e significativa anche di quello che sta avvenendo nel Medio Oriente ti auguro buona giornata e soprattutto questo appello fermiamo le armi e vediamo di costruire la pace ovviamente un percorso non facile si chiude qui il programma di informazione di Antenna Sud vi auguro buon sabato e buon proseguimento con i programmi di Antenna Sud rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo